e poi si scontrano a destra e sinistra in un periodo come questo la guerra più grande la si combatte con il pensiero e ce la vogliono togliere non vogliamo vivere disarmati perché è questo che vogliono perché è un popolo stupido è facile da comandare ma noi cosa diciamo? no! e si, Giannini come la Giannini e si, Giannini come la Giannini e si, Giannini come la Giannini e noi ci abbiamo le bandiere del Giu che cazzo ci avete? quindi in questa piazza vogliamo entrare come in battaglia urlando qui dai tre Un ruota! Uno, due, tre! Un ruota! Uno, due, tre! E' un'ultima volta più forte di tutti! Uno, due, tre! Allora iniziamo da desto! Stiamo arrivando! Comune stiamo arrivando! Comune stiamo arrivando! Comune stiamo arrivando! E visto che siamo persone rispettate, io direi dato che c'è il rosso di fermarci e bloccare questa strada! Voi che ne dite? Sì! Guardiamoci il rosso! Guardiamoci i coglioni! Ragazzi, dietro lo stitone! Dietro lo stitone! Guardiamoci i coglioni!